e salve a tutti amici della taverna benvenuti nel quarto quarto si quarta partata quarto episodio da della taverna signori mamma mia ragazzi è incredibile ci siamo arrivati alla quarta non siamo ancora morti ma soprattutto è passata straveloce sta settimana per me c'è ho visto cazzo è già domenica ma ultimamente il tempo sta volando io non so se ci fai caso sembrava ieri che prendessi la patente invece è la sega no ma te lo assicuro a me sembrava ieri che prendessi il classico discorso da vecchio però che andava all'elementari una volta che compi 18 anni e che che hai la postiglia nella testa di pigliarti i laberini di patente per esempio poi da lì in poi vola vola non so se ci hai fatto caso anche te vabbè c'è la moto si vabbè non ho la patente della macchina però sicuramente sta andando molto più velocemente il tempo scorso ma te l'ho detto sembra ieri domani mi sposo ho già dei figli no no stai spessando però vola 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 troppo velocemente il tempo dobbiamo che sargi dietro amici voglio già fare il mio collegamento speciale visto che si parla di volo però sapete come cos'è che altro cos'altro che sta volando le copie vendute dire le copie vendute di vedete online perché rox ha avuto la brillante idea di mettere fino al 15 febbraio red dead online e quindi la versione stand alone dovendo dire data redemption 2 a soli 4,99 euro su playstation su computer direttamente da social capi di rockstar steam mi sembra anche epic games su xbox ovunque fino al 15 febbraio dopodiché costerà 20 euro ma detto questo però figo perché chi magari non si può permettere 70 euro no vabbè 60 euro di gioco normale e comunque ci vuole giocare cazzo 5 euro per red dead è un piano marketing geniale visto che comunque l'online di red dead non solo stava cagando nessuno praticamente quindi sì perché alla fine dicevano era vuoto che però l'hanno migliorato con l'ultimo aggiornamento hanno detto sì devo ancora testarlo perché l'ho giocato su play ho sperato nel cross progression tra il mio personaggio play e quello che adesso su pc perché l'ho acquistato recentemente su pc visto i 5 euro online intendo e il cross progression non c'è quando io vado anche nel sito del social club della rockstar io vedo ok red dead online personaggio e poi c'è scritto a fianco ps4 c'è un menu a tendina ti fa scegli ok pc xbox e ti scegli il tuo personaggio a seconda delle varie piattaforme mi va di culo che io su red dead online per quanto mi sia divertito ci ho giocato veramente tanto ero livello 16 l'unica cosa mi girano le balle che avevo vinto un evento che avevo 20 lingotti d'oro però no io invece ho giocato finito la campagna quello disinstallato tanto l'online non mi interessava mi interessavano più quei giga di spazio vabbè vabbè no no mi hai fatto bene anche perché la campagna si vabbè tanto non ha nulla da dire ma lo sai sì no vai fai tanto io poi c'è un discorso ok no mi dispiaceva per l'online di red dead come dicevi anche te che è stato ora ribadisco devo ancora testarlo bene questo molto scarno io mi aspettavo una cosa con gta 5 che è partito male c'è l'online di gta 5 era partito male non c'era nulla da fare dopo il mega update che l'hanno messo anche su pc sulle next gen in prima persona e tutto hanno iniziato a mettere un botto di cose che potevi fare attualmente uno dei giochi più giocati soprattutto le rapine hanno fatto fare il boom di gta ma mi ricordo ai tempi che noi eravamo super eccitati all'idea e non solo noi ovviamente quindi è andato a ruolo è vero che uno potrebbe dire gta ambientato nei giorni nostri quindi ci sono anche più cose da fare rispetto a un red dead vero però mi piacerebbe vedere quelle cose che si possono che si potrebbero fare un gioco come red dead o comunque nel periodo del far west comunque fatte bene non messa la babbo il gioco aiutti edda su red dead che era bello di cavalli cazzo figata ci sono tutte cose che si potrebbero fare ma sono un po' di inventiva c'ha rockstar dai tra le mani schiavo alla fine tempi c'era puoi fare il traffico di schiavi tanto gta per ste cose ci sta quindi anche red dead minimi dissociano la vera rai buon uomo che voleva dire volevo dire che quando si fece la scorsa puntata si si diceva che mancavano nove giorni a martedì scorso era ci mancavano nove giorni perché avevano nove giorni e adesso mancano praticamente per chi guarda è lotto quindi mancano due giorni a red dead e teoricamente dovrebbe essere già scaricabile da oggi non lo so ecco cosa devo fare prenderlo su steam e quindi insomma tutto questo discorso delle cose che usciva cyberpunk poi una puntata alla fine sarà tutta dedicata un po sul parlare del gioco senza spoiler eccetera io ero ero convinto che fosse stata questa quella puntata lo so perché ero ecco come se quando noi stessi stava registrando io credevo che fosse quella settimana dopo quindi di quando alla fine poi è riuscito il video invece no hai mandato in mind faccio il mio calendario biologico infatti quando il giorno il giorno dopo ci stavo pensando detto cazzo ora aspetta ma veramente sarà la prossima puntata è vero è la prossima è vero è vero sta cosa ora la martedì prossimo potremmo dirvi la nostra opinione molto a caldo ovviamente prima che si finisce salva anche una notte dicono che sia anche più grande di gta sia di mappace pure di mappa e anche di the witcher 3 leggende narrano che che sia più semplice visitare ogni dannato pianeta di non man sky che finire stai perché sia più semplice avere una seconda vita che finire staremo a vedere non vedo l'ora non vedo l'ora speriamo no raga sono sono in stra estasi per cyberpunk e sono curioso chiudendo il discorso di redad di vedere un po cosa hanno cosa hanno combinato parlando di grandi giochi poi la settimana di cyberpunk l'uscita di cyberpunk c'è anche il game awards la notte tutta la giovedì e venerdì ci sono i game awards perché è la notte perché mi ricordo che ho detto l'ho sparata grossa su twitch ho detto vabbè li portiamo mi piacerebbe portare problema che non è la notte tra venerdì e sabato dove anche se perché finiranno alle 5 del mattino qua orario italiano e quindi dico vabbè posso farlo lafterone via è la notte tra giovedì e venerdì da quanto ho letto e io venerdì mi alzo al mattino presto perché ho lezione quindi ehi mi sa che mi riguarderò poi discuteremo poi ovviamente martedì prossimo anche poi ora mi sono dimenticato una cosa molto importante ovvero spammare il canale di dila perché tante notizie interessanti se volete rimanere aggiornati su cose interessanti o anche appunto magari le le novità su nuove ps5 nuove console insomma o qualsiasi altra cosa di che potrebbe essere interessante il signor dila insieme a samu pubblicano tutti i giorni mi sembra qualcosina su instagram comunque spesso quindi in descrizione canale twitch e instagram di dila trovate anche il il patrion il famoso patrion per chi vuole sostenerci e poter aumentare la qualità di questo podcast e anche il mio è il mio link di gportal per chi non sapesse che cos'è gportal è un rent server di giochi e c'è un 5 per cento di sconto su tutti quanti i server che potete acquistare e perché vedete in basso a destra appunto c'è sponsored by gportal grazie ma che figata io già non sapevo dell'esistenza di questo gportal grazie ci può avermelo detto vado subito ad acquistare utilizzando il nome codice di sinome 0 0 mai ma che te stavi giocando insieme a samu a cosa farmi simulator 2019 sì se non mi sbaglio ci sono i server anche lì magari a proposito ma si vuole unire a farming simulator che venerdì perché samu ha boicottato c'è boicottato se ne si è tirato indietro che non gli piace io me lo continuo come non gli piace perché è un imambo ma non gli piace ogni video giochi e c'è grazie dire non mi piace farming simulator 19 come dire della sto fase 2 mi ha fatto schifo c'è la stessa identica cosa come dire che peppa pig è una merda dai samu non ti piace nessun gioco se non ti piace ci sono i giochi di calcio ma ha detto che non gli piace se non gli piace cod e non gli piace cioè gli facci sono i giochi di calcio bacia e caccia una merda faccule giochi di calcio ma gli piace anche della sto fase anciarti dei detroit non gli piace farmi simulator quindi oggettivamente non gli piace oggi non ti piace ma devo scaricare tanto è quello di epic gratis no yes sì dovevo scaricare yes yes ragazzuoli e comunque il cammino è stato fatto game awards io spero che vinca della sto fase 2 me la sento perderà sto fase 2 non voglio guffarla però se lo meriterebbe però a parte vabbè il ricevere premi eccetera c'è dovrebbero mostrare diversi giochi tra cui tanti gioco interessanti c'è tanti ora questi sono gli unici ora tra questi che abbiamo scritto sinceramente ce n'è solo uno che interessa a me e alla maggior parte della gente ma tra l'altro anche uno che mi sembra sia stato proprio ufficializzata la sua presenza ai game awards direttamente dal presentatore su twitter vai avrei l'onore di introdurre questo fantomatico gioco il primo gioco è dragon age 4 4 che io non le ho giocati tutti le un po giocherellati ma sincero personalmente tanto a me dragon age non non mi interessa però ci sono i mega fan ecco perché comunque obiettivamente un coros la saga di dragon age io giocai al 2 e al 3 inquisition e anche io 2 inquisition e non sono in hype perché come comunque diceva anche gipo per sé non siamo proprio fan della saga cioè obiettivamente un bel gioco sì ma poi io personalmente non sapevo nemmeno dell'esistenza del 4 cioè che lo stessero facendo finché non ho visto la notizia è stata un po particolare perché mostrarono qualche anno fa un trailer di concept art una cosa del genere infatti tutti i fan adesso si sperano sperano e si aspettano che il game awards venga mostrato un trailer almeno del gameplay perché un po di queste cinematiche con sapato e concept art concept art oggi non so parlare giustamente si sono rotti le palle perché comunque dragon age 3 non è uscito ieri è uscito parecchi anni fa quindi sarebbe carino vedere un attimo visto che è da un po che si sa che in sviluppo vedere qualcosa in più del di questo nuovo capitolo di dragon age vediamo come sono molto curioso e lì invece c'ho parecchio hype di vedere tutti quegli altri giochi che invece verranno mostrati a game awards ma che ancora non si sa nulla io ora io non so se la blizzard sicuramente l'esclusiva di mostrare i giochi ce l'ha col blizzcon sicuramente penso di sì sì proprio perché è il suo però io voglio vedere sto cazzo di diablo 4 quando ne parlarono non era nemmeno blizzard sun quindi probabilmente era non essendo un accanito di blizzard che non la seguo tantissimo probabilmente il blizzard sun sarebbe che è molto vicino oppure non so però comunque magari blizzard sun probabilmente è molto in là cioè proprio quando dicano è un blizzard sun significa tra 1 o 2 anni magari non lo so sì e magari il nemmeno blizzard sun può significare 3 o 4 anni vabbè sarebbe bello magari poter sperare non mostrare qualcosa di diablo 4 al game awards però purtroppo queste cose le faranno ne dubito ne dubito anche se ho goduto come un riccio appena nato quando mostrarono quel trailer bellissimo che durava anche un po sembrava un mini cortometraggio ma tra l'altro complimenti bellissima anche proprio il doppiaggio in italiano ci sono dei colossi comunque all'interno delle voci ma vero tanta roba cioè facessero un film proprio di diablo in quel modo un po come hanno fatto anche con warcraft anche se vabbè warcraft c'è una mezza cacata insomma un film quello che è il classico film che vi fa passare un po di ore però se uscisse il cazzo di film come hanno fatto i trailer del 4 cioè spettacolo davvero e beh e beh no hanno fatto veramente un bel lavoro con quella con quella cinematic veramente ma veramente bello complimenti blizzard e non vediamo l'ora di giocare diablo 4 chissà quando chissà quando non lo so più probabile per come stiano andando le cose nel mondo che ci autodistruggeremo prima di giocare molto più probabile carina sta cosa però però forse forse riusciremo a metterci mano e non vediamo l'ora non vediamo anche perché io non parlo da fan sfegatato la saga però appassionato sì e invece di mettere le mani su un gioco come potremmo mettere agli occhi anche a elden ring perché forse c'è anche quello è piaciuto eh già elden ring che ora sinceramente ho letto un po tanto velocemente le cose però dicono che è quasi finito e quindi ci può essere un reveal da alcune parti c'è scritto che ci sarà alcune parti insomma è un 50 50 che dicono ci sarà un 50 dice che potrebbe non lo sanno manco loro decidono il giorno stesso raga ma lo mostriamo probabilmente quando sono lì vedono la scaletta dicono aspettate qui manca tipo in questi dieci minuti invece di fare la pausa caffè possiamo metterci a elden ring vai vai chiama toni nel coro che con la chiavetta usb con dentro un trigger da 22 giga un gioco esatto caccia il trigger e poi sbagliato gli ha caricato il gioco con phil che ci gioca qui signor spender grande con i suoi commentari no sono curioso sono curiosa perché ne abbiamo anche parlato nella scorsa puntata di questo idea thing si parlava proprio che non si sa che sappiamo poco sappiamo soltanto il commento che ha fatto phil spencer quando l'ha giocato qualche mese fa ha avuto un commento stra positivo però giustamente noi da videogiocatori vogliamo vederlo com'è e non vogliamo vedere il trigger un gameplay sì ma ora se fosse vero che è quasi finito ci potrebbe essere un 3 però boh vediamo non so esattamente come si voglia muovere from software su per quanto riguarda il piano marketing a livello pubblicitario di alden ring però sta facendo rumore sta facendo rumore proprio anche per il fatto che in collaborazione ci sia l'autore di game of thrones quindi vediamo io dico gameplay per il semplice fatto che c'è una frase che mi ha un attimo spiazzato di dispenser dove diceva che raga i gameplay è fantastico qualcosa di nuovo che non avete visto e quindi magari lo so c'era una meccanica perché boh poi tagliarsi il panino e basta poi resta tutto uguale obiettivamente la verità qualcosa di nuovo che abbiamo visto esatto e poi c'è una cagata una cosa utile o meno questo non c'è dato sapevo però è qualcosa di nuovo importante quello no sono sarà curioso e non vedo ora non vedo però dannazione adesso io sono indeciso come passerò la notte tra giovedì e venerdì giocando cyberpunk o guardando i game awards cioè è un bel diremmo io sicuramente è vero cazzo perché se appunto nella nostra notte di venerdì sostanzialmente dell'undici giovedì e venerdì perché tanto poi il venerdì posso svegliarmi tardi perché vado al lavoro il pomeriggio magari è visto che c'ho qualche schermo gioco mentre osservo anche io vediamo anche perché io immagino che sia un gioco impegnativo mentalmente parlando meno che non ti crei un salvataggio un po come si fa anche in gta o si faceva in skyrim o si fa tuttora ti crei un secondo salvataggio da dove si inizia a uccidere gente a casa ah ok un po svezzato per testare cosa succede testare le meccaniche che magari te nella tua nella storia del tuo personaggio non faresti però sicuramente mi sa che mi seguirò i game awards mi sa mi sa di sì vediamo mentre giochi scusa anche te c'hai due schermi no infatti infatti vediamo tanto alla fine basta tenere l'audio un pochettino basso magari mentre giochi puoi andare a fare le secondarie esplorare entro tanto la campagna non meglio non farla se uno segue il game awards no perché non te la goglia ma perché giustamente anche cyber che è una tipologia di gioco che non è uno scaccia pensieri che dici è un da casual gamer diciamo credo che immagino che ti impegni mentalmente parlando e ci sta soprattutto per il fatto delle delle scelte che effettivamente affliggono tutto poi il susseguirsi delle cose e quindi devi stare molto attento poi nemmeno tanto molto attento perché io tante volte pensavo a fare la scelta giusta in certi giochi ok però ora non so se sai bene bene la storia di cyberpunk però ma in realtà no perché mi sono tenuto un po lo scuro però non ho problemi se voglio sostanzialmente ti vieni ingaggiato per prendere un chip se non mi sbaglio funziona così se viene ingaggiato per prendere un chip che però tipo si sta per sciupare per non mi ricordo bene e quindi l'unico modo per non farlo distruggere è impiantartelo e appunto nel chip c'è silver hand c'è il signor il signor chiano che lui sarebbe un terrorista vabbè che simpatico che poi vabbè il terrorista terrorista perché il classico terrorismo che si può conoscere tutti però il terrorismo suo è quello che c'ha le sue idee del fatto che tutti sono dei pezzi di merda lo vuole dimostrare sostanzialmente ok e quindi poi te combatti questa cosa internamente del lo seguo o non lo seguo o faccio come cazzo mi pare ok quindi diciamo quale scelte un po come prenderle personalmente cioè proprio cosa fareste in quelle situazioni non dire aspetta faccio questo perché sarebbe meglio perché se puta caso succede è meglio diciamo che non è il gioco che ti pone davanti le due grandi scelte salva il mondo distruggere la città esatto cioè ci sono delle vie di mezzo delle altre sfumature e questo è bello questo è bello una cosa bello che alla fine ti fa un po come mi sono fatto un po la mia esperienza su red dead lì ho effettivamente giocato un po meglio il mio ruolo diciamo cioè proprio dire io sono una persona sostanzialmente un po più buona non faccio lo stronzo e quindi ok ai situazioni se devo scegliere tra fare lo stronzo magari lasciar vivere quello in base alla situazione lo lascio vivere o anche cose stesse cose mi sono successe tipo su legion no guarda sai di cosa sono curioso di vedere quanto queste scelte influenzeranno non tanto la storia ma tanto quanto influenzeranno il mondo di gioco quello mi mi intriga parecchio quello mi intriga parecchio sono curioso perché che influenzino la storia è giusto è normale ci sta però la storia è anche il mondo di gioco che da quanto si è visto sembra bello dinamico bello corposo e quindi è bello vedere le tue scelte con tutte queste sfumature qua quanto andranno a influenzare con il rapporto magari con gli altri npc nei vari quartieri magari tutte tutte queste robine qua mi mi intriga davvero non vedo davvero l'ora soprattutto per per l'rtx poi sembra stra mega ottimizzato e spero che sia stra mega ottimizzato anche senza il dlss ok anche perché non so se sai bene cos'è cosa sarebbe tecnicamente il dlss intanto sono sbaglio alla nuova tecnologia delle serie 30 no da l'anno messa già con le 2000 comunque alle serie 30 mi pare ci sia un qualcosa in più se non mi sbaglio ok e cosa più di alas e praticamente il dlss perché ti fa andar bene il gioco perché ti riduce sostanzialmente il render ok e con la una sottospecie di intelligenza artificiale te lo fa arrivare alla tua risoluzione quindi è come dire io c'ho uno schermo 2k il dlss me lo abbassa a 720p però quella tecnologia me lo mostra comunque in 2k per dirti per fare un esempio molto ok ho capito forse ho capito cosa intendi alla mano infatti su sull'ision io ci giocavi una mezz'oretta prima del rilascio ufficiale io misi il dlss ma si vedeva una merda infatti dicevo cazzo però è tutto granuloso perché è tutto proprio come se mi avessero abbassato la risoluzione effettivamente è questo poi con l'aggiornamento dei driver è cambiato insomma si vedeva però riuscivo comunque a notare quella piccola differenza del rtx senza il dlss perché ovviamente senza dlss ce l'hai pura la tua risoluzione e vedi tutto molto meglio però se c'era veramente se c'erano veramente tanti riflessi nell'acqua perché pioveva e allora lì si poteva notare un po una risoluzione un pelino più bassa e quindi spero sia molto ottimizzato senza dlss da ora ho letto un po i requisiti sì e non so bene non mi ricordo se erano proprio col dlss attivo perché ho letto anch'io dei requisiti e puntavano ovviamente sulle serie 30 per gli massimi infatti la mia domanda era riuscirei a reggiarlo al massimo con la mia 2070 allora li tenendo conto che comunque ogni 9 di nona generazione 32 giga di ram allora lì dicono anzi guarda me lo vado a riprendere la domanda che mi sono posto recentemente però non ho mai avuto la voglia e tempo di approfondire forse il coraggio di vedere la risposta allora cinque giorni fa vai sentiamo metterla tutto schermo se no ottio l'ho perso ok allora 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 minimi per il 1080p postazioni grafiche lo proprio ecco io vado in 1080p non c'è lo schermo 2k c'è lo full hd allora ecco con 1080p ti puoi avere un bottleneck di cpu cosa puoi avere un po di bottleneck proprio perché stai a risoluzione bassa perché la risoluzione bassa lavora di cpu anche c'è da tanto carico anche sulla cpu se non mi sbaglio invece di quando vai in alto che lavora tanto la scheda video quindi bottleneck di cpu nel senso che la scheda video non riesce a lavorare proprio bene però non so se questo è dovuto solo dal fatto se hai una scheda video molto più potente comunque la 2070 va bene per il 1080p tipo io se io io sarei un coglione se giocassi con 1080p con la 2080 ti si comunque poi se ho sbagliato qualcuno mi corregga nei comments comunque 8 giga di ram un i5 3570k 3 giga di v ram raccomandati quindi ad alto 12 giga di ram una mille e sessanta una mille 6 e sessanta super posto e 6 giga di v ram alti qua si parla di 2k ultra però sentiamo e già te puoi rientrare tipo in ultra 1080p perché comunque anzi si perché ultra 12 giga di ram normale come prima e una 2060 vabbè c'ho la 2070 quindi adesso hai anche 1080p allora sto poi come processore un i7 4790 quindi non hai problemi di 9 di 9 di 9 generazione qua bello mentre per l'ultra si parla di 4k stesso processore quindi 74790 16 giga di ram e un rtx 2080 super o 3070 e 8 giga di vado però vabbè a cavolo pensavo molto più alti requisiti no sono molto bassi si è ottimizzato molto bene mentre con rtx al minimo 1080p no aspetta perché qui c'è scritto rt ora io credo che rt stia per rtx anche se non c'è proprio scritto rtx sì spero anch'io però comunque qua c'è scritto perché rt minimo risoluzione 1080p impostazioni grafiche rt medio stesso processore di quelli di prima l'i7 4790 16 giga di ram 2060 e quindi non 6 giga di v ram quindi probabilmente te lo puoi giocare senza problemi si medio qua dice medio cioè forse l'impostazione di rtx medio cioè di rtx minimo perché impostazioni grafiche dice rt medio però sopra c'è scritto rt minimo è un po strano ovviamente poi in live dovrò mettere una risoluzione più bassa perché sennò mi scatta cioè perché a me va fluidissimo perché è già successo con altri giochi io c'ho al massimo mi va fluidissimo però in live scatticchia un se te non hai cali di frame perché sei cali di frame su bs non è per forza dovuto al fatto che hai perdita di connessione ma anche al fatto che è il computer che non riesce a reggere bene di tenerti fissi gli fps e quindi la ci può stare un po di scatti però se te non hai perdite di frame vuol dire che il problema sono i server di twitch perché anch'io diverse volte ho avuto questi problema andavo alla grande non avevo pacchetti persi proprio un cazzo di niente se io non ho problemi di connessione ma un frame allora quando quando te te devi controllare da bs proprio c'è scritto frame drop comunque qualcosa qualcosa una cosa in più la partita di connessione quanti frame stai perdendo quello è collegato a entrambi cioè se te hai problemi con il computer o se hai problemi di connessione ti esce comunque qualcosa quindi può essere entrambi però se vedi che il pallino rimane verde sostanzialmente è problema del computer se hai frame drop se però non hai frame drop ma scatta in live ma scatta in live e lo vedi da obs che scatta allora aspetta lo vedi da obs che scatta sì lo vedo da obs che scatta e non ho frame drop che giochi in full screen ho provato tutti e due i modi sia full screen sia schermo intero senza senza vabbè quello è comunque testa fai encode con il processore no scheda video scheda video fai quello new sì ho provato anche l'altro perché quello non è apposta per la rtx i donno non saprei un mister infatti rocket league dice in gioco che lo sparo a più di 300 fps quel cacchio di gioco tutto al massimo in live ha iniziato da poco a darmi problemi e devo abbassare la qualità di rendering e metterla non più su molto alto che al massimo ma su prestazioni alte prestazioni per non farlo scattare in live è molto strana sta cosa infatti mi piacerebbe approfondire il discorso perché voglio capire come risolvere perché mi scoccia giocare a rocket league perché io tipo preset qualità e profilo alto su obs sì non tengo massima qualità ma metto solo qualità questo nelle nei quando facevo le dirette quelle poche che facevo invece nelle registrazioni vabbè metto massima qualità ed alto perché non lo posso tutto al massimo tutto al massimo preset prova a stare poi su qualità ora se ti cambia qualcosa per set aspetta fa un po vedere oggi ragazzi si parla anche di ubs ma tra di voi sono alla fine fammi vedere qui alla fine dobbiamo parlare di altre tre cose abbiamo ancora mezz'ora no io qualità a no questa dove no dove dove hai visto prestato dove in uscita dirette in uscita dirette cio velocità in bit video codifica e velocità in bit audio per con la modalità d'uscita semplice dovrei mettere quella avanzata forse si si deve mettere una uscita avanzata allora ok allora forse devo smanettare su quella avanzata allora è quello che mi frega ci provo poi ti do una mano comunque allora poi si parla di perché quando allora il primo rt che dico è perché sostanzialmente c'è scritto anzi lo metto anche per la gente che oddio questo non so se si vede vai nel dubbio metti eccolo qua allora lo voglio devo fare così ok allora allora perché qua praticamente c'è scritto tipo i requisiti minimi raccomandati alti ultra rt minimo rt alto rt ultra quindi è il tipo la tipologia e poi in impostazioni grafiche c'è una cosa in più di rt rispetto a quello che c'è scritto sopra quindi c'è scritto rt minimo impostazioni grafiche rt medio e io non so bene quindi io dico quello che c'è scritto e c'è ragazzi giovedì testa che vediamo un po comunque in rt alto c'è in 2k con rt ultra di impostazioni grafiche un i7 6.700 e 6 mesi 6.700 16 giga di ram e una 3070 quindi sostanzialmente questo è quello che io mi posso permettere da da quello che dicono quindi in 2k così ma io tanto lo sparerò a bestia che poi alla fine c'è in rt alto rt ultra sostanzialmente la stessa cosa solo che la differenza che in rt ultra c'è il 4k si quindi proveremo e con te con contare la risoluzione massima che fai 12k a te con 2k io proverò con miglior comunque in ogni caso serve una 3080 per spararlo al al massimo in 4k la massima risoluzione ok ok allora ma c'è sì però vabbè io con la 2080 ti è tutto ad ultra in 2k non dovrei avere per niente problemi anche perché l'unica scheda video che possiamo trovare sul mercato di schede video di potenza di tecnologia ma cosa ne pensi delle console mid gen e perché ti fongo questa console mid gen cosa tipo la playstation 4 pro a di metà generazione diciamo sì vado 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 mi piace il collegamento però mi fa molto ridere ogni volta fa un collegamento no allora ci sta il fatto che ora su sulla pro della 4 non so sinceramente se effettivamente c'è stata una differenza di hardware la differenza sapevo che potevi in alcuni giochi non so se in tutti sceglierti un po delle impostazioni grafiche tipo su monster hunter world qualità o prestazioni però alla fine i giochi giravano comunque una merda io solamente sono molto con non lo so non mi convincono e mi debba se te lo danno lo stesso prezzo no oddio se me lo danno lo stesso prezzo ci sta mi abbassi il prezzo ovviamente delle altre e ha senso però non lo so c'è nel senso dai appena uscita da poi cinque e sony ha già un breve vetto per una ps 5 però sì ma porca miseria sony allora guardami negli occhi sony pensa a fare i giochi perché adesso a parte di monso non c'è nulla quindi prima di pensare al brevetto delle dannate con formi di genere fai i giochi con tata naughty dog e santa mo e rompere le balle di o qua ci servono titoli ma dobbiamo fare non così così non va bene non si può già pensare a come è possibile questa cosa com'è possibile che poi tra l'altro le play 5 non le troviamo per colpa a questi bastardi argomenti in un oggi mamma mia che collegamento per colpa di questi bar stadi che si chiamano bagarini che sono quelli sono quei classici figli di puttana che fanno i bot per poter comprare delle serie 3000 o appunto in questo caso delle ps 5 ma anche delle xbox serie x per poi rivenderle e tra l'altro c'è questo non è l'unica infamata perché se te vuoi avere la possibilità di poterti aggiudicare una di queste console che loro ricomprano e in caso rivendano a prezzi alti per potertela giudicare a un prezzo un po più basso puoi iscriverti al loro gruppo per 40 euro al mese e mi vuoi sa ho trovato e non ho trovato io ho trovato in realtà un ragazzo che si parlava ieri in live su twitch la soluzione per togliere i bagarini sulle serie 30 che queste sono cinque parla con il microfono mettete un dannato captcha all'acquisto così non possono bottare il sito questo momento io potrei essere questo ragazzo che ha detto 66 meme dove sono tutti riuniti c'è l'unico che dice una cosa intelligente c'è tutti che spavano idee ma non lo so ma perché non lo diciamo settimane prima dello stock così la gente già lì pronta ad acquistare faccio poi la mettiamo un captcha per maria di mezzo senso un captcha metti il cazzo di codice fiscale tanto alla fine hanno conto alla fine per fartela spedire ai tutti cazzo di ai comunque dove abiti come ti chiami eccetera se ti metti il codice fiscale è un semplice captcha facile no no che poi sti bastardi sono gli stessi perché ritene qua del bagaridaggio dei bagarini qui viene là non so se voi avete in mente magari allo stadio un concerto quella che quando i biglietti comprano un sacco di biglietti poi questi qua esauriscono e loro sono quelli che ti vedi col cappello impermeabile così biglietto che magari costa penso a 50 euro e io voglio un biglietto dei di eminem qua a milano 85 euro magari si muovono un po così perché si sono appena fatto la stessa cosa accade sulle serie 30 sulla play 5 su tutto tutto che comunque hanno comprato hanno affermato di avere di averne ottenute oltre 3.000 oltre 2.000 e in precedenza erano riusciti a prenderne altre 3.500 e la madonna c'è questi 5.500 ps 5 sostanzialmente hanno comprato e anche 1.000 xbox serie x cioè io io non non capisco non capisco tante cose nella vita non capisco come mai sony ci sia già un è perché un leak un leak un rumore quello che cacchio è su una console mid gen che tra pari in così per chiudendo un attimo il discorso dovrebbe avere una gpu in più che lavora in parallelo con l'altra scheda video quindi un aumento di prestazioni però sono soltanto leak un rumore non capisco come mai sia nvidia sia sony producano due schede video due playstation 5 cioè non comprendo sta cosa non capisco la gente da dove cacchio tiri fuori tutti questi soldi cioè non capisco nulla cioè io boh io non comprendo sono stupido non comprendo come sia possibile tutto ciò perché io mi rendo conto che in questo periodo la gente è a casa e mi raccomando state a casa perché sono stata a casa bisogna inseriamo il cipo addosso lui quando si arrabbia cattivo non volete farlo a bianco vengola con il cinghiale cioè io capisco che la gente giustamente per trovare dei passatempi spende dei soldi servizi in miglioramento per non solo le loro piattaforme attrezzature per poter passare il tempo e tu capisco questo capisco che i prezzi di nvidia sono ottimi come i prezzi di playstation 5 sono giusti e quindi anche questo attira più clienti ma io non capisco che tu azienda sai che stai vendendo un sacco perché sia sony sia nvidia sono consapevoli che stiamo che stanno vendendo un sacco stanno facendo un botto di soldi ma porca miseria ma quanto ti costa visto che hai le vendite assicurate fare più console ma dall'altro il mio fratello mi ha detto che non è che avevano poche play è che loro avevano più di avevano più console all'uscita della ps4 solo che l'hanno vendute tutte cioè allora cos'è successo che dalla vecchia generazione a questa cioè a parte il mega salto c'è stato dai no 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 non parlo c'è parlo di appassionati ma se c'è un sacco di gente che oltre ad avere che acquistare sony c'è sony è riuscita a ottenere un sacco ma veramente un sacco di clienti in più oltre a i soliti diciamo passamentari no con quello complimenti congratulazioni però cioè a sto punto se io vedo che questo risultato ne produco di più sai cosa ne produco in più secondo me allora quando mostrarono la play 5 per la prima volta tutti a prendere per il culo comunque il design che a me personalmente piace molto cioè sta un rinnovamento alla fine dalla 2 alla 4 sono sempre state uguali sostanzialmente cioè è grande quanto la mia stanza diciamo diciamo anche la 1 però la 1 era grigia e era una sera un po più piccina con quel coso di disco gigante sopra che però ce l'ho ancora e la 2 sono riuscito anche a sistemarla grande e la la 2 vabbè la 2 è come si potrebbe prendere come la 4 pro solo che la 4 pro è fatta un po più e più sia più perché la 2 alla fine è un mattoncino la 3 era un mattoncino un po più ricurvo e la 4 era un mattoncino la 3 slim era un mattoncino erano tutti uguali la 5 sì la 5 è uno di quei palazzi di dubai è vero è vero fa anche da modem apri 5 mi è piaciuto che c'era quello appunto con il modem e i fogli di carta ma a proposito ti apro e chiudo una princhese al volo sai che tutti per curano xbox serie xs perché sembra un frigolifero bene microsoft ha fatto il suo frigolifero che ne hanno fatti pochi è stata una generata è stata una generata io adesso aspetto modem un router da da parte di sony un po come prendevano per il culo skyrim che era ovunque infatti quando la bethesda stava facendo una presentazione di qualcosa c'era questo trailer che stavano giocando a skyrim sullo schermettino del frigo ora possono fare la mega collab visto che l'hanno comprata e hanno fatto il frigo xbox vaffanculo proprio da aumentare il gioco nello schermettino del frigo troppo giocata così ma comunque io personalmente se l'avessero messo messo in vendita l'avrei comprata visto che dobbiamo dobbiamo prendere un frigo nuovo avrei scelto quello una figata al suo perché anche se ha questo design minimalista è molto bella la console proprio questo design molto pulita me le cose molto pulite mi piacciono un sacco infatti mi piacerebbe avere anche una scrivania molto pulita come il design dell'xbox invece non è così è piena di roba e quindi sarebbe una figata anche di frigo proprio no sarebbe stiloso sarebbe stiloso comunque raga io veramente non comprendo come mai tutto stia esaurendo alla velocità della luce io ringrazio il cielo che cyberpunk lo puoi comprare digitalmente finiscono le chiavi generale codice chiavi si è rotto hanno generato talmente impossibile però in qualche modo è successo e niente ma guarda sul 2020 mi aspetto di tutto cioè mi aspetto anche che scarico cyberpunk digitali mi scoppia il computer a caso infatti muoio direttamente che poi parlando di cose che esauriscono no le ci sono le vabbè le classiche serie 3000 eccetera che comunque si trovano io vedo un sacco di video su facebook di questi cosi italiani tipo draco o un altro italiano vg non so se vg informatica non mi ricordo bene però pubblicano sempre le foto che hanno la scatola della scheda video eccetera no no l'aprono c'è la scheda video però vai sul sito ed è disponibile soltanto perché è nel computer già prefabbricato ora porca puttana io ti posso comprare e far fare molti più soldi se la metti liscia la scheda video che te la compro ti compro sulla scheda video invece di mettermi un computer a 2500 euro con componenti di merda rispetto a quelli che mi potrei fare io con 2500 euro avendo comunque la 3080 esatto ma ci metto un bel ryzen nuovo ci metto la 3080 ci posso mettere anche 120 giga di rama con tutti sti soldi cosa e te l'esauriamo che se questa cosa funziona è perché c'è qualcuno che lo compra come la cosa di come la cosa dei bagarini perché la cosa di vendere le prestation 5 a 10 mila euro funziona perché c'è qualcuno che li compra ma come cacchio stai a comprare una no vabbè magari magari c'è la comprano per quei 500 euro e magari la rivendano a 600 con no no sono uscite proprio notizie dove è stata rivenduta 10 mila euro ed è stata acquistata 10 mila euro da poi 5 io capisco che che magari c'è chi ha i soldi da buttare me ne ci sta perché c'è gente gli avessi l'avrei fatto anch'io è che 10 mila euro per loro sono l'equivalente magari mi ne ho come spesa non ad albago perché andata albago a genova altro che un euro questo è un altro discorso è esatto vero c'è raga ma come siamo a queste c'è un 5 ma io con 10 mila euro posso fare un sacco di cose molto più interessante io intanto posso farmi il mio viaggio a new york delle si stava parlando della scorsa settimana ma proprio mi posso fare un mese intero perché magari mi prendo per un mese un bel appartamento a manattan da 3500 dollari e quindi in euro sono anche meno e poi facciamo vabbè facciamo il pari a uno a uno e quindi poi me ne avanzano altri 6.500 e con 6.500 a voglia te porca puttana in un mese tu ci stai anche compri quel che cazzo vuoi con quei 10 mila euro se non ci fai l'impianto al liquido completo per il computer e tutto il case custom tutto il case proprio che è liquido ci ha avuto sì esatto ma ma incredibile però rimane lì tutto grazie alla gravità e alle cose incredibili a che riuscì a scoprire i gravitoni gip e nobile della meccanica quantistica subito dopo a la particella di hicks bravo tutto su materia nera e all'interno e all'interno c'è un piccolo buco nero che risucchia tutto il calore direttamente un cacchio di generatore di wormhole non è un computer lo accendi piega lo spazio tempo scopri che vivi una quarta dimensione all'interno di un tesseract e niente benvenuti a gargantua interstellar scopri che effettivamente sei una una pasticca che la gente ingerisce in un altro universo di stra mega giganti cosmici tutto questo per farsi un pc a raffreddamento liquido scoperta dal secolo vabbè ragà il fosforo è stato scoperto perché il chimico mi sembra che aveva bollito o non lo so una cosa del genere la sua urina quindi tutte le cose interessante vero perché dovete capire sapere che la taverna podcast è anche divulgazione scientifica fatta male la taverna podcast è anche questo e anche questo è tanto altaro comunque voglio far dire a te l'ultima cosa visto che stiamo parlando di serie 3000 usaurite playstation esaurite ma che tanto stiamo scrivendo sulle cose esaurite vi dico una cosa amici ecco questa settimana sono uscite le schede video che portano le next gen a casa alla portata di tutti esattamente sì sono uscite le 3060 ti alla modica cifra di 429 euro e sono più potenti delle 2080 super volete sapere qual è la fregatura sembra tutto bello tutto magico incantato un mio amico ieri in live me lo diceva un carasso che ci segue ci fa io io appena sono uscite l'orario che hanno messo in sei secondi sono esaurite tutte bot dei sborratini come si chiama in quelli di prima e si è stato lui per dire giustamente la cosa dei captcha cioè il problema adesso non è non è non è diventato vorrei prendere la scheda video vorrei prendere la play però non riesco diventata non la trovo non la trovo cioè no no perché poi succede che ti escono le custom perché sì perché sì sono già uscite delle custom della 3060 ti che costano 800 euro cioè costano quanto una custom della 3080 come è possibile chi è poi il genio che con 800 euro una 3080 800 euro una 800 euro custom 3080 quindi 100 euro in più magari del poi per carità ci sono anche quelle da 1200 4 sempre custom 3080 però c'è anche quelle di marche buone come geforce msi 800 euro e ti vedi a fianco 3060 ti 800 euro a custom quando sai che non costa 100 euro in più rispetto alla founder ma bensì il doppio ora dimmi se le fanno vuol dire che c'è un idiota al mondo che le compra io voglio parlare con questa gente magari magari sai bello c'era quello che diceva e no io non non compro la 2080 super aspetto le 3060 ti hai la 2080 super costa 800 euro e c'è la 3060 ti hai non può comprare non riesce a comprare quella casa e quella founder quindi si butta sulle custom la trova 800 euro compra ma sei scemo ma io ti prendo ma lo compri bellissimo io la prendo in mano te la sbatto in testa tra l'altro io io avevo in mente questa cosa che io la mia la mia 2080 ti che è della rogstrix l'ho pagata 1350 euro ok e volevo appunto volevo comparirmi la 3080 che comunque a quanto pare è comunque più potente grazie alle nuove tecnologie eccetera della 2080 ti e costa di meno l'avrei pagata 960 euro sempre della rogstrix quindi la mia idea era questa mi arriva la scheda video rimando ad amazon la mia perché comunque ogni tanto ha problemi di coil wine la mia scheda video quindi data la garanzia legale per qualsiasi problema in nei due anni di quando ti è arrivata a casa puoi rimandarla indietro per qualsiasi problema che non hai causato te se te la prendi e ti casca di mano è colpa tua infatti io mandai il mio vecchissimo schermo lo mandai indietro perché comunque c'erano pixel bruciati e me l'hanno ripreso dopo due anni ok e quindi insomma la rimandavo indietro e mi avanzavano quei poco più di 350 euro di guadagno avevo e avevo una scheda video più potente ed è la stessa cosa che vorrei fare un po con le con la serie ti ai della 3080 quindi prendere probabilmente la 3080 ti del rogstrix verrà 1500 euro o comunque verrà uguale perché dovrebbe partire da 1000 dollari quindi le casta giungono di 350 euro e quindi viene uguale poi rimandare indietro la mia e avere alla fine avere non avere i soldi che ormai ho già speso ma comunque avere una scheda video molto più potente però tanto non capiterà mai perché io anche volevo fare una cosa simile con la mia 2070 che la pagai 600 500 euro quanto è volevo mandarla indietro perché comunque fortunatamente presa su amazon ancora in garanzia poi amazon non è che guarda il prezzo attuale guarda il prezzo quando l'hai pagata e quindi volevo poi aggiungerci qualcosina e prendermi o la founder della 3080 o comunque quella custom della geforce che comunque non è male è buona che costa 100 euro in più e quindi sono 800 euro non si trovano ma addirittura io appunto ordinai la 3080 su draco e inizialmente c'era scritto arrivo entro il 22 ottobre quindi ero stracontento perché comunque l'ho comprata il mese prima la comprai e era pronto il 22 settembre e già dicevo vabbè cazzo in un mese riusciranno a fare quella per me arrivo già al 22 ottobre c'era scritto che ero ottantesimo in fila che comunque dopo una settimana ero ero scalato di tre posti si e poi arrivò una mail data stimata 31 dicembre 2020 e quindi ho annullato l'ordine perché ho detto no vabbè c'è sinceramente 960 euro a sto punto me li tengo e adesso data stimata marzo no aprile io ripeto non ho parole perché è un discorso ormai per tutto schede video console next cioè console playstation 5 io boh cioè allora io non riesco a capire o è perché appunto vabbè la gente è a casa e sono in in cassa integrazione quindi si beccano non so se gli stessi soldi o comunque poco meno comunque si beccano comunque i soldi stando a casa quindi risparmiano sull'uscire quindi non mangiano fuori risparmiano sulla benzina risparmiano su un botto di cose o è per questo e quindi comunque gli appassionati che prima aspettavano un attimo a pensare di comprarla allora adesso che possono la comprano o appunto botto ovunque botto su draco botto su amazon botto su su cosa su su sito dell'invidia botto ovunque ok fare business però che cazzo fallo su altro fallo sui preservativi non lo so cioè no ma ragazzi fosse la cosa dei bot e purtroppo è quello che penso è una cosa che a livello informatico si può risolvere quindi non se ne deve occupare nvidia non se ne deve occupare sony sono i vari negozi i vari distributori che se ne devono occupare in questo caso magari mi riferisco ad amazon per chi acquista magari schede video playstation su amazon e altri siti come possono essere non lo so ma stesso il sito dell'invidia stesso il sito della sony se lo compri direttamente da lì comunque è una cosa che si può si può avviare e anzi è una cosa che inizierai a mettere proprio di default fissa cioè si inizia a integrare questa cosa e basta che così sradichi il problema direttamente da l'area tra l'altro perché non mettono su sony o sul sito dell'asus o sull'msi e che puoi effettivamente comprare sul loro sito come su nvidia perché io vado sul sito della sony e non c'è lo store della sony dove lì magari so esattamente quante ce ne sono so esattamente quando ci saranno e sono più sicuro perché sono cioè ho una sicurezza di dove l'acquisto invece di acquistarlo su altri siti che non sei sicuro si 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 non saprai non saprai ragazzi io spero che sta cosa si possa risolvere anche perché sony come abbiamo detto qualche puntata fa aveva detto che un nuovo stock sarebbe arrivato prima della fine del gun si davvero tanto che però non ah è prima che ci ha sbagliato dimmi il capo no no non si sa non hanno dato né data né ore meno male non hanno dato né data né ora comunque no non hanno dato né data né ore meno male perché insomma la gente era già però comunque io non basta cioè tipo do la priorità al mio viaggetto a new york quindi uscire alla 3080 la tempo 3080 ti hai non me ne frega un cazzo aspetto metto via soldi mi faccio il mio viaggetto le cose perché comunque come ho detto la scorsa volta è più un'idea di lavoro per andare là e poi quando arriverò più in là allora e ci saranno delle quantità solide potrò pensare di acquistarla perché comunque la mia scheda video non fa schifo posso andarci avanti benissimo e magari quando potrò dire vabbè mi compro la 3080 ti uscirà la serie 4000 esatto esatto no sì delle quantità solide da dire la ordino mi arriva al massimo entro una settimana e non tra otto mesi cioè nel senso no però io a quest'ora sarei potuto essere un possessore della 3090 sì eh perché io inizialmente mi volevo comprare quella perché comunque si pensava che alla fine la 3090 fosse la versione ti hai delle 3000 e invece no era più sulla sulla titan e infatti aveva un 15% in più per più del doppio del prezzo rispetto alla 3080 e lì dici mmm comunque perché sarei potuto essere un possessore perché comunque se fosse stata il 40% in più potente rispetto alla 2080 ti hai come di solito è tra le versioni ti hai io avevo già i soldi per dire ok me la prendo perché comunque avrei fatto la stessa cosa di poi rimandare indietro bla bla sì e perché sono andato lì ed era disponibile quando sono stato lì per 10 minuti è stata disponibile per 10 minuti circa 10 incredibili minuti boh staremo a vedere che poi vabbè comunque se la 3080 è un bel po' più potente rispetto alla 2080 ti hai quel 15% in più rispetto alla 3080 ti hai rispetto alla 3080 e quindi poi basandolo su quella che io e io eravamo già in un range bello alto però se mi se mi metto poi a comparare vabbè la 3080 costa due volte meno e costa la metà e ha e adesso praticamente la maggior parte delle volte lo supera di 3 fps o 5 sinceramente per 5 fps se già mi fa tanto 5 fps in più cioè che manco te ne accorgi anche perché ha quei numeri non sei più che giri un gioco a 25 frame e dici 5 fps davvero magari c'ha dai quindi no ci sta che dire le notizie mi sembrano finite oggi scusate un attimo il mio raptus però sta cosa di tutto esaurito mi compoggeva no ma ma anche a me ma soprattutto il perché è tutto esaurito e c'è quello che si dice che l'hanno data ai miner e ci sono questi che hanno comprate un sacco cioè e porca puttana non è che si dice vabbè è tutto esaurito perché effettivamente la gente le ha comprate no la gente le va a ricomprare per farci business cioè boh poi ci sono i poveri stronzi come noi che finalmente potevano permettersi qualcosa cioè una volta tanto che realizza vabbè dai un piccolo sogno desiderio nel cassetto facciamoci l'auto regal ma un po' come dire ma metti via tantissimi soldi per poterti comprare la tua auto dei sogni arrivi finalmente ad avere quei soldi vai a comprare l'auto dei sogni non le fanno più e non le trovi da nessuna parte e se le vuoi la gente esatto cioè giocare a demon souls cioè uffa non è giusto a me ormai è passata la voglia ho detto vabbè vaffanculo tanto gioco su gioco al cyberpunk i soldi risparmiati dalla play mi ci sono comprato quella tasterina da kickstarter per 87 euro che per quello che è sinceramente va alla grande visto la mia è più piccola e l'ho pagata 4 volte di più e quelli che mi avanzano li spenderò per i miei mesi di world of warcraft quindi farò wow e cyberpunk wow e cyberpunk poi ti raggiungo insieme ad alex su wow che da un paio li prendiamo anche noi mi guarderete da lontano probabilmente anche no vabbè comunque c'ho il mio personaggino il mio warrior che è al 55 che sto livellando molto lentamente perché te vabbè arrivi al 50 e fai la campagna della nuova espansione ah è vero eh sì io lì al classic voi mi guardate da lontano sono livello 8 o 9 eh non è che noi siamo chissà quanto no però comunque vi conviene giocare a quello a quello normale insomma a quello originale è molto bello c'ha tante cose molto divertenti soprattutto giocarlo nella mia gilda perché ci divertiamo sempre tutti insieme comunque vabbè i re wind e dite che siete amici di gp dite così perché sennò vi picchiano esatto ma comunque dicevo che vabbè è molto lentamente cioè sto livellando molto lentamente perché te classicamente arrivi al livello 50 ti fai la tua campagna di shadowland arrivi un pezzettino che sei nella fauce che è la prima zona nuova esci da lì e vai nella nuova zona di di dove stai come una classica orgrimmar le classiche zone dove ci stai spesso e e niente poi vai avanti quando te con un altro personaggio se ti hai già bello e finito la campagna arrivi poi al personaggio dopo arrivi a ritornare nel a orbis si chiama che sarebbe la nuova orgrimmar chiamiamola così e e ti fa fare la scelta o rigiocarti la campagna o passare direttamente alla scelta della congrega che l'ultima parte è scegliere con chi ti vuoi alleare e poi andare avanti comunque con le cose della congrega eccetera che sono molto lunghe anche quelle e ho detto vabbè che palle rifarmi tutta la storia eccetera vado direttamente alla congrega peccato che ci vuole una vita ad andare avanti perché le missioni ti danno meno xp per missione e in più quelle che ti danno più xp ci vogliono mezz'ora e passa per missione però invece di darti 12.000 magari ti danno 16.000 e sono le quest mondiali che ti danno di più ma ci vuole una vita a farle vabbè ci sta e quindi è tutto lungo ultimamente sono in fissa su no man sky e adesso infatti stasera dopo un attimo fare due cose di lavoro col buon samu mi sfondo su farming simulator che è fantastico se ve lo dicevi prima lo scaricavo stamattina al lavoro è stato pronto io vabbè non domani lo scarico martedì dopo che ho finito di caricare il video poi lo lo metto in scarico anche se mi devo scaricare proprio epic games sul portale quanto abbiamo fatto oggi di un'ora e otto un'ora e nove adesso siamo partiti dicendo dai che ci siamo tanti notizie sei partito dai anche perché non avevi visto che avevo aggiunto Roma vai bene vai bene ragazzi spieghiamo che comunque no sostanzialmente non abbiamo parlato tantissimo del delle notizie della settimana non ci siamo soffermati tantissimo sono stati più un po' gli insulti per sti sborratini paganini sì ma anche perché comunque obiettivamente non è che c'era chi sta quanto di queste notizie no a parte che il 10 dicembre ci sarà il il Games Awards e questi giochini che vabbè Dragon Age c'è Elden Ring un 50-50 poi alla fine alla fine sempre le solite cose ogni puntata c'è sempre il fattore esaurimento un po' quello nervoso che noi abbiamo sì ci piace screare addosso alle cose alle persone a tutto comunque lo so che io l'altra volta avevo detto che ogni puntata fa la metà della puntata di prima di Views ok allora la prima siamo a 160 ma buono vabbè un uno meno dell'1,6% dei miei iscritti di tutti vabbè poi 90 la seconda e 60 l'ultima questa qua 30 30-40 poi quella dopo ne farà 15 quella dopo poi alla fine come ho detto l'altra volta sarò solo io che controllo che sia tutto a posto vabbè ragazzi noi come sempre speriamo che vi sia piaciuto che ma io stavo pensando la butto già qua la butto così nel video fatecelo sapere magari se vi può piacere visto che è un podcast che i podcast si ascoltano principalmente se vi può piacere magari il fatto che noi possiamo caricarlo su Spotify un saluto tra l'altro a Spotify che ci segue che ci segue sempre infatti ci lo sponsorizzerà tra l'altro lo dico ora ma poi lo dirò anche nella nella prossima perché mi è venuto in mente ora essendo che io poi dal 25 sarò in ferie per un mese e non potrò più caricare video sostanzialmente quindi probabilmente Cyberpunk non so nemmeno se lo inizierò a portare sul canale proprio per sta cosa perché magari porterò qualche video e poi sarà stoppato perché non avrò più la possibilità di caricare video dovuto alla connessione e nemmeno con il 4G perché alla fine se ogni video di un'ora mi pesa 6 giga e ce ne ho 30 ne carico pochi ah beh giustamente e quindi ho chiesto a Dylan se mi può ostare il podcast tutte le domeniche in live sul canale qui di Youtube in modo comunque da non farlo mancare perché comunque l'ho anche detto che è una cosa che per qualsiasi cosa non lo voglio mancare perché quell'oretta di stacco e di chiacchiere che possiamo fare in live può essere anche più carino ma magari c'è anche più interazione esatto esatto così ci fate sapere anche la vostra sui argomenti anche se questi bastardi non commentano mai per dare feedback no mi dissocio tanto bastardi no guardate ragazzi ci sono quelle persone che mettono mi piace e poi non si sa nemmeno perché quella che mette dislike non si sa perché perché così è bello tra l'altro la cosa ora voglio dire anche questo ora la facciamo di due ore cioè nel primo video 21 like nel secondo 17 nello scorso 10 per quei 21 dove sono finiti non ci sono più quei 21 a cui è piaciuto il primo e gli avrà fatto cagare il secondo ma vabbè però il secondo ce n'erano tipo 4 meno e in quello dopo ce ne sono 7 meno pian piano facciamo sempre più cagare e non è un accompagnarvi a quelle che sono le notizie videoludiche ma è un viaggio che io e Gippo facciamo verso il Gertio è un viaggio personale che facciamo esatto c'è chi raggiunge il Nirvana c'è chi raggiunge lo sterco allora cazzo beh ragazzi vediamo qua amici è stato bello fateci sapere con un commentino qua sotto cosa ne pensate fateci sapere la vostra opinione e diteci magari come migliorare la qualità audio video o comunque la qualità in generale del podcast a partire io da una videocamera barra webcam nuova perché non so a parte lo fa a 30 fps ma poi ogni volta devo stare a rimodificare le cazzo di impostazioni per i colori e per la sua e paffanculo queste cose e niente e niente ci vediamo martedì prossimo su cyberpunk davvero proprio su cyberpunk questa volta su cyberpunk ma te lo porti proprio il 10 in live giovedì ci faccio tutta la live quindi perché è arrivato alla fine ricordatevi che il 10 il signor dylan lo fai il pomeriggio o no il pomeriggio c'era da mezzanotte 30 faremo cyberpunk 2020 7 7 che io ovviamente non vi seguirò perché me lo giocherò bravo però potresti tenerci in sottofondo e dire in live cosa ne dove sei magari ci commentiamo scriviamo ma magari voi andate più avanti e quindi me lo spoilerò perché vi guardo a parte il prorogo farò misare missioni secondarie proprio per evitare spoiler alla gente e tra l'altro so che ad alcuni arriverà prima e appunto non è illegale portare video prima se arriva prima però comunque hanno chiesto di non farlo proprio per queste cose mi hanno poi minacciati da quando una cosa che ti dico anche a te che non so se lo sai ci sarà la possibilità nelle impostazioni per le musiche di mettere le musiche senza copyright ah ok perché se no ci sono automaticamente le musiche anche con il copyright invece con questa impostazione dove ci sono le musiche con copyright ci sono quelle senza le telecambia quindi è utile anche per me se pubblicherò qualche video per te questa situazione del copyright è sfuggita un po' di mano su tutte queste piatte è l'argomento oltre a cyberpunk della prossima settimana perché è interessante io l'unica cosa che poi farò magari pre-live è la customizzazione del personaggio perché comunque è molto esplicita e quindi voglio evitare i problemi su Twitch io invece abilito tutto il nudo e mi farò la femmina come da bravo boomer io invece abilito tutto il nudo proverò prima il personaggio femmina e poi invece mi farò il personaggio maschio perché voglio in mente così poi ci accoppiamo no vabbè dai chiediamo qua che questo è l'episodio più lungo sì sì un po' come riprende del personaggio è un po' come quello che piacerà al mio personaggio ragazzi dai grazie per averci seguito fin qua per chi ci ha seguito fin qua madonna io voglio che chi ci abbia seguito fin qua vada adesso e commenti io c'ero porca puttana voglio vedere quindi nessuno voglio voglio hashtag io c'ero nei commenti hashtag io c'ero hashtag io c'ero nei commenti tutto hashtag io c'ero nei commenti io sarò il primo no perché poi tutti lo scrivono perché lo ha scritto vabbè lo scrivo anch'io quindi non lo fare se no te lo cancello dai ragazzuoghi ci vediamo martedì prossimo martedì prossimo sempre alle 14 con gli spoiler di cyberpunk no vabbè alla prossima signori ciao 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 ciao